Adesso ti chiedo un voto al ministro Matteo Salvini che sull'Europa, siamo in corsa per la campagna per le europee, ha detto che ci vuole meno Europa e più Italia. Sentiamo Salvini. Dire più Europa oggi è come dire più droga o un tossico dipendente, è come dire più alcol o un alcolizzato. Secondo me noi dovremo avere il coraggio e la lucidità di dire che in questo momento occorre più libertà, come c'è scritto qua, ma per avere più libertà occorre meno Unione Europea. Voto le parole del ministro Salvini. Uno, anche con un certo brivido, se devo essere sincero, perché Salvini è riuscito a dire che occorre coraggio e lucidità dopo aver fatto questi paragoni con l'alcolismo, con la droga, i tossici, l'Europa, non si è capito niente o forse si è capito benissimo quello che voleva dire, cioè una cosa molto semplice. Dentro alla Lega ci sono due correnti, c'è la corrente che vuole tornare alla Lega, moderata si fa per dire, federalista del Nord, che non ama la svolta a destra di Salvini e c'è appunto la Lega di Salvini. Salvini anche in questo intervento diversamente lucido ha detto noi dobbiamo guardare a destra, noi dobbiamo diversificarci dalla Meloni, perché altrimenti la Meloni ci prende tutti i voti, come mi diversifico continuando a dire che l'Europa è cattiva, è brutta, è perfida, mentre la Meloni se ne va con la von der Leyen. Io resto quello che bastona l'Europa. Questo è il succo del discorso, dopodiché secondo me non ha un grande futuro una Lega che guarda all'estrema destra e credo che alle prossime elezioni europee la Meloni ne uscirà benissimo, Salvini ne uscirà malissimo. E a questo punto potrebbe anche aprirsi uno scenario che più volte ha evocato travaglio e cioè potrebbe succedere una sorta di secondo papete. Diciamo che l'unica possibilità oggi dell'opposizione è rappresentata da un delire da un Sicilio di Salvini. Pensate come siamo messi. Chiaro. Allora c'è un generale scrittore che probabilmente si candiderà con la Lega, non si è ancora capito bene, forse sì, forse no, che dice queste parole, sentiamo il generale Vannacci. No, non credo che io possa raddrizzare il mondo, però credo che insieme, insieme tutti quanti, visto che siete qua in tanti ad ascoltarvi e credo che se siete venuti qua è perché qua un po' di voglia di raddrizzare il mondo ce l'avete. Se non altro si possa iniziare, si possa iniziare a cercare di avere un mondo, un mondo dritto. Allora, il mondo dritto contro il mondo storto. Voto Vannacci? È il voto che do sempre a Vannacci, uno. Anche qui con ironia perché... Vannacci e Salvini se ne fanno due. Sì, stasera sono... Sì. Secondo me le elezioni faranno più o meno questa percentuale, ma in realtà no, scherzi a parte. Vannacci può prendere un sacco di voti. Quella sala era piena, vende libri, è uno che ha un consenso nel paese. Come dice sempre Salvini, l'Italia è un grande bar, dentro i bar c'è sempre uno come Vannacci. E quindi Vannacci i suoi voti li prenderà, dopodiché io do quel voto lì perché mi fa paura. Sentire uno come Vannacci che parla di mondo dritto, dobbiamo raddrizzare il mondo. Qual è la sua idea di mondo dritto? Dobbiamo raddrizzare chi? Diversi? I stranieri? Gli omosessuali? Mi fa paura, o meglio, lui in quanto persona no, però le idee, chiamiamole così, che lui incarna mi mettono in una certa inquietudine e purtroppo in questo vento che tira verso destra c'è spazio anche per gente come Vannacci. Vannacci è uno che divide molto l'opinione pubblica, la democrazia però è fatta che si discute e poi si vota. Se lui prende i voti significa che ci sono persone che aderiscono alla piattaforma politica espressa dal suo libro. Come si contrastano i fenomeni alla Vannacci? Ignorandoli, come dice qualcuno, prendendoli un po' per i fondelli come ha fatto anche Bersani o mettendo punto per punto le cose che vengono dette e cercare di contraddirle? Allora, no, no, hai fatto bene a fare questa specifica, non ho mai detto che le posizioni di Vannacci non siano lecite o che laddove fosse eletto non dovrebbe andare in Europarlamento, per carità, lui verrà eletto, ci andrà e meriterà di andarci. Faccio due discorsi, intanto quando non era, ancora non lo è, un candidato politico, lui era un generale. I generali rappresentano tutta l'Italia e rappresentano le istituzioni, secondo me uno che interpreta e incarna, in alto per alto perché è stato un ottimo generale, le istituzioni quelle cose lì non le può dire, le puoi dire al bar come cittadino semplice, come generale no, quindi la mia critica era sulla liceità dell'uomo di Stato che dice quelle cose. Dopodiché, laddove diventasse un politico a tutti gli effetti, lui prenderà i voti, farà bene a fare la sua carriera, come lo si combatte? Lo si combatte con delle idee alternative credibili, quindi come scrittore per disinnescarlo bastava non parlarne e lì ha fatto un errore gigantesco Repubblica che gli ha lanciato la volata e l'ha trasformato in martire e quindi tutti l'hanno votato perché almeno facevano un dispetto alla sinistra. Come politico è molto semplice, bisogna trovare un'alternativa di sinistra che renda giustamente, naturalmente, plasticamente ridicole le idee di vannacci, che sono tali ma non diventano tali se non c'è un'alternativa, quindi detto in maniera più semplice che la sinistra si muova a creare un'alternativa e a rendere veramente irricevibili le valutazioni, le idee le posizioni di vannacci.